Ciao a tutti, sono Gianni, bentornati qui sul mio canale per questo nuovo video nel quale oggi torneremo a parlare insieme di videosorveglianza, un tema che purtroppo nella mia vita ha sotto un aspetto via via sempre più importante da quando alcuni anni fa ho avuto la brutta esperienza di essere stato visitato dai ladri, episodio che a parte per le conseguenze materiali del furto vero e proprio ha pesato soprattutto perché in una simile situazione ci si sente violati nella propria intimità nel luogo dove invece si dovrebbe essere più al sicuro, il che mi ha fatto brutalmente capire l'importanza di proteggermi implementando dei sistemi di videosorveglianza che svolgono un'importante azione deterrente contro la maggior parte dei malintenzionati, il che in questo periodo di tempo mi ha permesso di provare una serie di soluzioni più o meno economiche di cui ho potuto così proporvi le recensioni dove ho sempre cercato di illustrarvi al meglio gli aspetti positivi e negativi di ciascuna telecamera, anche perché il fondamento che sta alla base delle recensioni di qualsiasi prodotto vale ancora di più per le telecamere di sorveglianza di cui per poter capire le prestazioni c'è bisogno di un periodo, nel mio caso almeno un mese, di utilizzo reale così da comprendere il comportamento nelle rilevazioni con i giochi di luce da cui può derivare un numero più o meno elevato di falsi positivi per verificare se l'applicazione risponde bene anche da remoto, la qualità del comparto audio e tutta una serie di altri aspetti che vanno valutati su un periodo di tempo sufficientemente lungo, cosa che naturalmente però comporta un grande carico di lavoro a seguito del quale però, che poi è la cosa dal mio punto di vista più importante, si riesce sempre ad imparare qualcosa di nuovo che in seguito permette di valutare in modo migliore la telecamera successiva. Modo di fare con naturalmente seguito anche con questo nuovo kit di videosorveglianza di Zosi il cui maggior punto di forza è sicuramente la qualità delle immagini che può registrare in 4K HDR, kit che sto usando ormai da più di un mese iniziando ovviamente con l'installazione che è sicuramente la parte più impegnativa ma anche più divertente su cui però torneremo tra qualche minuto dopo l'esperienza di unboxing, non prima però di avervi ricordato che se vi piacciono questi contenuti potete farmelo sapere iscrivendovi al canale, commentando, condividendo e mettendo un mi piace al video in modo che il maggior numero di persone possano vederlo e di questo naturalmente vi ringrazio di cuore in anticipo. Nella confezione c'è tutto l'occorrente per la messa in opera del kit che comprende le quattro telecamere, l'NVR con i relativi accessori, in quest'altra scatola ci sono i cavi Ethernet e il materiale di consumo che vedremo nel dettaglio tra qualche secondo ed infine il manuale di istruzioni tradotto anche in italiano che come riportato sulla confezione è il punto da cui partire per l'installazione. Iniziando dall'NVR che naturalmente è il cuore pulsante di tutto il sistema e dove all'interno è già installato un disco fisso da 2 terabyte dove salvare le registrazioni video che è sicuramente un altro dei punti di forza di questo kit di videosorveglianza. Poi sempre per quanto riguarda gli accessori dell'NVR c'è il mouse USB indispensabile per muoversi all'interno dell'interfaccia utente, il cavo Ethernet per il collegamento con il router che serve anche per mettere online il sistema in modo da poterlo consultare da remoto con lo smartphone e l'applicazione dedicata. Per finire con l'alimentatore da parete compresa tedesca realizzato con una buona qualità costruttiva al pari di quella dell'NVR che ha costruito in plastica e metallo entrambi di ottima fattura. Sul pannello frontale oltre al ricevitore ad infrarossi per un eventuale telecomando ci sono anche tre indicatori a led e una porta USB per collegare chiavette o altri supporti dove esportare le registrazioni. Mentre su retro c'è la porta audio jack da 3,5 mm che diventa indispensabile collegando l'NVR ad un monitor con un cavo VGA dove come sappiamo non c'è il passaggio dell'audio a differenza invece della porta HDMI che oltre al suono supporta anche una risoluzione migliore che può arrivare fino a 4k. Poi c'è la porta LAN per il collegamento con il router che serve per mettere online il sistema così da poterlo consultare con lo smartphone. A fianco ci sono ulteriori due porte USB 2.0 di cui una per il mouse. Ancora a fianco ci sono le otto porte LAN per collegare altrettante telecamere che essendo tutte quante PoE oltre a ricevere il flusso video riescono anche ad alimentarle senza bisogno di collegarle direttamente alla corrente elettrica. Ed infine concludiamo con il tasto di accensione e spegnimento che serve per chiudere fisicamente il sistema e con la porta dove va inserito lo spinotto dell'alimentatore. Per quanto riguarda il resto invece oltre alle quattro telecamere che vedremo più da vicino tra qualche secondo ci sono anche in questa scatolina un cavo HDMI per il collegamento dell'NVR al monitor, le viti e i tasselli per il montaggio delle telecamere che diventa molto semplice usando questi stick adesivi che indicano dove forare il muro. Poi ci sono anche le targhette per segnalare la video sorveglianza, informazione che vi ricordo è obbligatorio portare a conoscenza di soggetti terzi ed infine chiudiamo anche con i quattro cavi Ethernet di categoria 5 lunghi 18 metri ciascuno. Anche le telecamere possiedono un'ottima qualità costruttiva infatti sono realizzate interamente in metallo e certificate IP66. Nella zona colorata in nero oltre alla lente ci sono tre indicatori a led, il sensore di luminosità, il microfono e i quattro faretti due a led per la visione notturna a colori e due ad infrarosso per quella in bianco e nero. Sulla base c'è l'altoparlante che oltre a permettere di parlare con chi si trova nell'inquadratura può suonare anche con una sirena per scoraggiare eventuali malintenzionati. Sul retro c'è naturalmente la base snodabile che consente di orientare la telecamera in tutte le direzioni che va fissata al muro con tre viti e da cui fuoriescono i due cavi, quello LAN per il collegamento all'NVR, da cui come abbiamo detto più volte la telecamera ottiene anche la corrente elettrica di cui ha bisogno, per cui il cavo di alimentazione, pur essendo presente in questa configurazione, diventa superfluo. Per quanto riguarda l'installazione, trattandosi di un kit PoE, le telecamere non hanno bisogno di essere alimentate con un collegamento diretto alla corrente elettrica che ricevono direttamente dall'NVR per metodo del cavo Ethernet che serve ovviamente anche per trasmettere le immagini. Fase che è sicuramente la più complicata ma allo stesso tempo divertente e distruttiva dove bisogna arrangiarsi cercando di fare fronte a situazioni impreviste a meno di non aver pensato all'origine ad una predisposizione perché bisogna riuscire a posare i cavi nel modo meno invasivo possibile proteggendoli dove sono esposti anche dagli agenti atmosferici per cui io ho usato sia delle cannaline passacavi sia delle scatole di collegamento in metallo per mantenere all'asciutto le varie connessioni che sono comunque impermeabili. Involucri che essendo universali non si adattavano però perfettamente ai fori presenti sulla base delle telecamere che ho dovuto fissare usando solo due viti che comunque sono più che sufficienti e poi contro la pioggia ho anche realizzato artigianalmente delle coperture in plastica per le telecamere. Dopodiché il resto del processo davvero molto semplice perché basta collegare i quattro cavi ethernet ad altrettante porte dell'nvr che per poter vedere le immagini dovrà essere a sua volta collegato con un cavo av oppure hdmi ad un monitor e poi anche al modern router per mezzo di un cavo ethernet così da mettere online il sistema che quindi potremo consultare senza bisogno di un collegamento ad internet in locale oppure online con l'applicazione dedicata e una connessione dati. A questo punto a mio modo di vedere l'esperienza di utilizzo si sviluppa su due livelli che pur essendo presente un client anche per windows sono principalmente l'nvr e l'applicazione dedicata per smartphone. Ovviamente l'nvr a cui con il protocollo onwhip si possono collegare anche telecamere di terze parti è il cuore pulsante di tutto il sistema perché è da qui che si possono regolare tutte le opzioni che poi influenzeranno il comportamento e le prestazioni del sistema come ad esempio la qualità delle registrazioni che volendo possono anche essere trasferite su un supporto esterno, il modo di rilevare le anomalie che possono riguardare qualunque tipo di movimento oppure solamente quelli derivanti da persone, le esclusioni di eventuali zone dove è possibile che si creino in misura maggiore i falsi positivi, l'applicazione di maschere per tutelare la privacy dei soggetti terzi, il comportamento della visione notturna che può essere ad infrarossi e quindi bianco e nero a colori oppure intelligente, dell'altoparlante integrato che in corrispondenza ad anomalie può suonare come una sirena in modo da scoraggiare eventuali malintenzionati. È anche vero però che riguardando delle telecamere fisse si tratta di regolazioni da mettere a punto una sola volta, diciamo nella prima settimana di utilizzo, ma dove poi realisticamente non metteremo più il naso a meno di cambiamenti significativi nel modo di utilizzo che per chi non usa la registrazione continua 24 ore su 24 potrebbero verificarsi ad esempio in questo periodo durante le ferie estive quando potremo non essere in casa per un lungo arco di tempo, situazione da cui potrebbe nascere la necessità di cambiare eventuali programmi di registrazione. Molto più importante invece per quanto riguarda le esperienze di utilizzo è l'applicazione dedicata per smartphone che può essere usata in due modi, esclusivamente in locale, connessa la stessa rete dell'NVR con funzionalità limitate oppure in modo completo online dopo la registrazione. Con una prima configurazione semplicissima, infatti con lo smartphone connesso alla stessa rete, dopo aver scansionato il codice a barre incollato sull'angolo sinistro, l'NVR verrà individuato automaticamente. Dopodiché rispetto ad altre soluzioni simili avremo a disposizione una serie limitata di opzioni che comunque comprendono tutte quelle essenziali, cominciando da qui in basso dove potremo consultare le notifiche che sono divise in base al tipo di anomalia rilevata, corredata di una fotografia e da dove si può immediatamente consultare anche la registrazione relativa, il che è una caratteristica a mio modo di vedere imprescindibile per questo tipo di soluzioni che in questo caso funziona davvero bene. Mentre nelle ultime due sezioni potremo rispettivamente consultare le registrazioni, foto e video che abbiamo salvato manualmente in locale nella memoria dello smartphone ed accedere allo store online dove è possibile avere una panoramica completa dei prodotti offerti da Zosi. Nella schermata principale invece dove ci sono le miniature delle telecamere cliccando qui in basso a destra sulla rotellina dentata entreremo nel menu impostazioni da dove è possibile consultare le informazioni relative all'NVR che può essere condiviso con altre persone. Poi potremo anche abilitare le notifiche che naturalmente possono essere gestite a livello di singola telecamera distinguendo tra le persone e gli altri tipi di anomalia che quindi possono essere impostate in modo differente per ogni singolo canale. Come del resto anche la prossima opzione che riguarda l'allarme sonoro e luminoso per cui in corrispondenza di un'eventuale anomalia la telecamera può attivare simultaneamente con un'intensità regolabile per entrambi se la sirena si è faretti a led in modo da scoraggiare eventuali malintenzionati scegliendo anche in questo caso il tipo di rilevazione che può riguardare solamente le persone qualsiasi movimento oppure entrambi ed infine si può anche scegliere la visione notturna sulla quale però faremo un breve approfondimento più avanti nelle conclusioni. Poi tornando indietro per l'ultima volta alla finestra delle impostazioni con le ultime tre opzioni potremo trasferire il sistema ad un altro account riavviarlo e rimuoverlo definitivamente. Mentre come al solito per entrare nella vista live da dove potremo vedere in diretta quanto inquadrato dalla telecamera anche da remoto con una connessione dati dovremo cliccare sulla relativa miniatura in modo che si aprirà la finestra dove potremo anche controllare i dati consumati dallo streaming che può essere impostato in qualità standard oppure in alta definizione. Poi sempre da qui potremo attivare sia l'altoparlante che i microfoni integrati nella telecamera, scattare una fotografia e registrare un breve video che saranno entrambi salvati in locale nella memoria dello smartphone ed infine anche consultare le registrazioni salvate sulla NVR. Il che conclude le funzionalità presenti nell'applicazione per cui ora possiamo iniziare il prossimo segmento di questa recensione verificando le notifiche derivanti dalla rilevazione del movimento che la telecamera è in grado di rilevare fino a più di 10 metri di distanza che come vedete sono inviate istantaneamente anche con una connessione dati il che è un altro aspetto davvero molto positivo di questo sistema di Zosi. E allora c'è stato il diurno per questo nuovo kit di videosorveglianza da esterni vigiosi che come abbiamo detto può registrare immagini spettacolari in 4K HDR. Oggi come sempre del resto valuteremo partendo da un po' più di 3 metri distanti dalla telecamera fino ad arrivare là in fondo ed è tutto più lontano a 15 metri. Dopo come vedete la telecamera sarà ancora in grado di rilevare il risultato di rilevare. E dato che come vedete probabilmente sentite oggi c'è un po' di letto riusciremo anche, o meglio stiamo riuscendo anche a sentire come questo fattore finisce sull'audio catturato dal microfono integrato. Ora ci sono i suoi metri, ci sono i suoi metri. E ora ci sono i suoi metri. E ora ci sono i suoi metri. E allora secondo ter diurno, questa volta però al tramonto e quindi un pochino in controluce con una luminosità naturalmente più piatta e anche meno intensa. Ora che il sole è quasi completamente tramontato, chiudiamo con un ultimo test diurno prima che si attivi la visione notturna. Grazie. 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 Proseguiamo con un test notturno in bianco e nero e quindi con le luci ad infrarosso. Grazie. 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 come sempre, con un test notturno con la visione a colori. Grazie a tutti. E allora breve test audio dell'altoparlante integrato in queste nuove telecamere di Zosi che come abbiamo visto anche in questo caso si trova sulla pancia della telecamera. E allora in conclusione dopo aver visto tutti gli aspetti positivi di questo nuovo kit di videosorveglianza di Zosi che tutto considerato offre un allevatissimo rapporto qualità prezzo è arrivato il momento di parlare dei punti da migliorare che riguardano principalmente i fareti a led per la visione notturna a colori sui quali di notte non c'è nulla da dire perché funzionano davvero bene il problema è che al momento attivando la visione intelligente quando la telecamera rileva una qualche anomalia si accendono anche di giorno dove rimangono costantemente accesi con la visione notturna a colori e poi la seconda cosina che migliorerei sono i tre indicatori a led che anche volendo non si possono spegnere dall'applicazione. Detto questo come sempre se volete dare un'occhiata trovate tutti i link qui sotto in descrizione dove ci sono anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e quello per iscrivervi al canale. A me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi per la visione. Ci vediamo alla prossima. Ciao da Gianni.